Ciao a tutti ragazzi, sono Enrico12222 ed eccoci qua finalmente con un nuovissimo video su Victoria 2 Siamo sempre in compagnia del nostro esperto Nikusotto Ciao a tutti ragazzi, bentornati anche voi in questo nuovissimo video Dopo il video precedente di stabilizzazione post-guerra, adesso abbiamo dei nuovi piani di invasione Ovvero quella del regno delle due Sicilie che non possiede alleati in modo da rafforzare la nostra potenza Prima dell'attacco finale contro la Svizzera, giusto? Oddio contro l'Austria, no? Sì l'Austria, scusa Quindi iniziamo a creare una giustificazione di guerra contro di loro Sì Per fare che cosa? Acquisisci Stato? Sì, fare acquisisci Stato sarà una lunga guerra perché... Acquisisci Stato è totale, vero? No, solamente una parte E me la fa scegliere? Eh sì, poi dovrei scegliere Dopo quando dichiariamo guerra ce la fa scegliere, vero? Ci vorranno circa 333 giorni, se verremo scoperti potremo guadagnare fino a 11 di infamia E sei a? Sono a... 8 e 47 Ok, va ancora bene Ah, e qual è il limite che si può superare? Eh... 25 Cioè si può superare Però dopo 25 praticamente il mondo intero ti attacca Ok Quindi è sconsigliato andare oltre al 25 Procediamo con la fabbricazione Tra l'altro la quattordicesima potenza Quindi è dopo di me subito E ha molte più unità di me, secondo me Comunque poi... No, basta che vai a vedere il punteggio di guerra Ah, adesso ti vado a vedere Poi avevano dato un'altra cosa In Svizzera c'è una fabbrica Una fabbrica di tessuti Potremmo aprirla Eh sì Apri fabbrica Apriamo Sì, sì, sì Però il bilancio è negativo di poco Però vabbè Adesso ci... perché non ci sono ancora gli impiegati Adesso ci mandiamo un po' di... ci vanno da soli, vero? Sì, sì, sì Poi ci arrivano, non ti preoccupare Sì, stanno già iniziando ad arrivare 1400 Ecco, si è tornata a produrre in positivo Stanno arrivando pian pianino gli operai Sì, sì Perfetto, quindi questa dovrebbe farmi guadagnare più soldi E togliermi dai miei problemi economici? Sì, probabilmente sì Adesso bisogna vedere se... Bisogna aspettare più che altro, vero? Un po' Esatto Esatto Però sta andando a più 37 Dovrebbe procurarmi quelli ogni giorno, no? No, quelli lì sono... Perché loro guadagnano in sé come fabbrica Poi tu ci guadagni è il materiale che gira attorno a questa economia tua Adesso invece sta andando in negativo quella in Piemonte Ah no, è tornata su, vabbè, sbalzano un po', no? Sì Ah, poi ci sono quattro progetti Cosa sono? Investitori Sì Una vetreria in Piemonte Manifestazioni a Torino Rivoluzionario sanguinario Il vecchio ordine deve essere difeso Vero? Ah, sì Però il 3% diventa liberale Beh, di una sola provincia non è tanto Me ne frego allora, ok Sì, sì Vabbè, quindi mi stanno costruendo la fabbrica Me la stanno facendo i capitalisti, la fabbrica loro Me la fanno loro E poi guadagno lo stesso io? Sì, 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 sì Infatti la cosa bella ti dicevo L'osservatore Vaticano cosa dice? Paura, sassonia Invenzione Scienziati e ingegneri in Danimarca Riportano di aver inventato Trasportatoria a vapore Speriamo che capiti anche a noi Oh, questa è un evento Società segreta, forse È soltanto quello che ci vogliono far credere Ma vengono sempre le stesse cose Oh, ho paura E alcune volte sì Allora, mi è venuto Adesso sono in positivo Grazie alle fabbriche, vero? Sì Allora, sono stato in giro In chi luoghi di lavoro in città Ma proprio non riesco a ottenere un'occupazione, signore Mi chiedo cosa fare Non posso andare a casa E lasciare crescere l'erba Intorno ai miei piedi Tutto il giorno La mia famiglia ha fiducia E mi sostiene Ma che cosa dovrebbe fare Un po' di Cristo Quando non ci sono posti di lavoro disponibili Con posti di lavoro scarsi E creditori inversamente Abbondanti Mi hai tradotto un po' con i piedi Beggio, tanto che siete ragotti Vabbè È Però mi dice Le fazioni ribelli si stanno organizzando Nella nostra fazione Faccio Sì Sì Effettivamente c'è una militanza abbastanza alta Nel nostro paese In Svizzera sta salendo sempre di più sale di uno ogni poco È normale Perché ho fatto il territorio È già 6,5 Ma quindi si ribellano secondo te? Sì Poi si ribellano Ma comunque non ti preoccupi Cioè Poi la ribellione Il problema è se si ribellano Mentre noi siamo Ad attaccare le due Sicilie Tu ti tieni comunque qualche uomo in patria Sì Sì Che guarda di fare Ecco una cosa che ho notato Che nonostante siamo alleati Però non abbiamo accesso militare Non ce l'abbiamo? Tu non hai No Ah Te lo chiedo anch'io Allora aspetta Sì Vai alla diplomazia Accesso militare Ok Procedi Chiedimelo anche tu Così siamo a posto Sì Te l'ho chiesto Dovebbe essere tutto fuori Ok Re abbiamo buone notizie Prussia ha deciso di affermettere Ok Poi Prussia chiede l'accettere Procedi Perfetto Hai deciso Tu cosa ce l'hai nel Baden L'accesso? Ma tu Devi riprenderti Devi prendere l'Alsazia e Lorena Eh Io sì Poi con la Francia sì Ma sarà una cosa che farò dopo Però ha creato La pompederazione tedesca del nord E qui cacchio Non riesco a sbloccare la situazione Devo Devo togliere l'influenza Poi pu Se no non riesco Vuoi provare ad aumentare a tre tacche Sperando che non esploda tutto Così riusciamo ad arrivare a questa benedetta guerra Sì sì Provo Si voleva un anno Non mi ricordo quando l'avremo fatta Sei anche tu al 24 dicembre 25 dicembre 26 dicembre Sì sì sono anche io lì Sono a meno 15 Scende Camera alta modificata Stanno aumentando i liberali razionali I conservatori scendono sempre di più Però sono ancora un buon 57% Quindi per il momento non ci preoccupiamo Preoccupiamo Regno Unito L'incoronazione della Regina Vittoria Ostia la Regina Vittoria 28 giugno 1838 La principessa Vittoria di Hannover Eh di Hannover infatti Si è col Surrezione Ah quanta roba Agitazione Fermo il tempo No 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 Surrezione liberale Inviare le truppe vero Sì 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 si è mai così Via Ah perfetto Ricerca completata Buckingham Palace Ah aspetta Fermo ancora Gli scienziati della nostra nazione Hanno scoperto musica romantica Eh sì poi ci sono le varie Quindi mi aumenta il prestigio di 1,6 Prestigio attuale condiviso Più 1,6 Perfetto Allora Io direi che adesso aumento Aumento qualcosa in esercito Piani militari Che mi aumenta l'organizzazione Vai così A posto Devo trovare Sono Vado su giù di 20 Devo trovare il modo di tassare qualcuno Oppure Perché se no tra un po' finisco i soldi Aspetta eh Devo trovare Però quanto ti manca alla fine della tecnologia Della ricerca Della ricerca realismo? Sì Tanto Tanto Perché se no magari potresti Cambiare qualcosa O nel commercio O nell'industria Che ti danno Qualche bonus in più E quindi ti aumenta Diciamo Il budget che ti arriva Un rano della società Artista Faccio aumentare la No Il 4% liberale No ciao Società segreta Ancora Forse soltanto Tutte queste società segrete Non se ne può più Esatto Cosa hai detto che posso modificare Dato che sono a 1846 In rapida discesa Borsa valori Commercio Aspetta Aumenta l'efficacia Della pressione fiscale Commercio Dove devo andare dopo? In commercio? Borsa valori È il primo Banche private Sotto borsa valori In commercio? Sì Banche private In commercio Io ho materie prime Bene industriali Bene di consumo Bene militari No No Io andavo sempre nel pannello tecnologia Ah hai detto con me Ah ho capito Ah è una tecnologia quindi Borsa valori Sì ho capito Sì sì Ah l'efficacia fiscale Sì E il problema è che Cosa fa? Prima devo aspettare Solo che ora che ho ricercato queste Poi l'altra sono morto Eh allora provi via Provi a ricercare subito Playtime Quindi Ma dopo mi rimane Mi rimane salvato Quello che ha fatto Di realismo Non credo però Non credo Vabbè allora a questo punto Lo finisco Lo finisco Vabbè va bene Intanto cosa faccio Aumento le tariffe doganali Via Su al massimo Sì Sennò hai mille da prestarmi Se mi presti mille Sono a posto Allora Vediamo Ma applicato si può Prestare qualcosa Quando siamo in guerra Puoi inviarmi dei sussidi Sì Quando siamo in guerra Sì Ma così normalmente No Non posso Non posso Aspetta 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 No Il nostro tentativo Di giustificare la guerra Con il caso Sbele Così ci stato O mai Le nostre I nostri agenti Non riescono a combinare Niente Abbiamo guadagnato 5.1 di infamia Sono a 13 Quindi come si diminuisce Quest'infamia Col tempo Quando si è in pace Beh ma comunque Ti è andato di lusso Siete aumentato Solo di 5 La gazzetta di Agilizzazione liberale Ne prendiamo atto Febbre dell'ora Sassari Oro Oro Cos'è questo? Aspetta La gazzetta di The Liberator Un nuovo quotidiano Iniziatto circolare Spungente commento politico Critica letteraria E notizie locali Rapidamente diventato Con fiore all'occhiello Per la politica liberale locale Spero di non apparire Nei necrologi O censura il giornale Solo che se lo censura Il 10% diventa liberale Eh Eh Qui è sempre difficile scegliere E' meglio dire Spero di non apparire Nei necrologi Ok 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 Adesso sono in positivo Grazie ai dassi doganali Forse Speriamo di rimanerci Adesso mi è venuto in mente Che io posso investire Su di te Rivolta dei Giacobini Maledizione Madonna Chamberia 7 di militanza Missione in 2 Sicilie Ma di cosa state parlando? Ma di cosa state parlando? Scusa che missione Non mi sto facendo niente Ma di che cosa state parlando? Mi sembra una cosa allucinante Che voi mi accusiate di queste cose Cioè Aspetta che ho stoppato un attimo Perché Posso finalmente Ma di che state a parlare? Cioè E' inaccettabile Aggiungo la sfera a 9 Ce l'ho fatta Sei riuscito A prendere il grande a 9 Alleluia Mille imprecazioni Ho dovuto fare Ok uniamo gli eserciti qua Così c'è la nostra artiglieria L'assurrezione liberale Invia le truppe Ne prendiamo atto L'agitazione liberale Si diffonde Va bene Ma comunque Non posso investire su di te Non so che è Grande scoperta Letteratura romantica Prestigio condiviso aumenta Agitazione repressa Eccellente Giornale C'è un nuovo giornale L'osservatore vaticano L'incoronazione della vittoria Guerra Austria teme le nostre forze Davvero Brestrutt in Peru Il prezzo sale Invenzione Invenzione Vabbè Bello che metta in italiano O metta in inglese Proprio un giornale internazionale Vabbè Non è stato tradotto Completamente Sei anche tu al 7 luglio Del 39 9 9 10 10 11 12 Sermone di fuoco Oh finalmente finisco Stanno finendo le rivolte liberali Io sto Quindi a settembre Settembre inizia la guerra Ah no no 100 anni dopo Eh mi si era abbassato un po' Poi era risalito Poi Vado in negativo Se aumento Aspetta 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 La minaccia siciliana Come tutti sanno Due Sicilii Sta per aggredirci Stanno venendo contro di noi La città di acquisizione Del Cazzo Belli Più 25 Ma che cavolo Insurrezione liberale Ancora Basta Basta Non ne possiamo più Adesso volendo Mi conviene Accumulare un po' di soldi O aumentare un po' I rifornimenti e le truppe Forse lì aumenta un po' Non del tutto Ma un po' Sì magari può fare sì Così da rimanere sempre Nel solito Più 15 Più 20 Sì Ok intanto le nostre fabbriche Produce Ah in Piemonte Nella fabbrica ho 10.000 operai Mi conviene Ampliarla No Vediamo un attimo Per queste fabbriche Allora Per costruire un'altra fabbrica Com'era che si faceva Provo a guardare qui Faccio Costruisci Fabbrica Beh volendo posso fare Un altro cementificio Da qualche parte Se no devo aspettare Di guadagnare più soldi Per qualche altra fabbrica Allora provo a aspettare Ancora Quindi non l'amplio Aspetto aspetto E basta Sì dai Aspettiamo Quindi adesso Allora sì Noi siamo pronti Per una grande guerra Che continueremo E voi la vedrete Esatto Il 5 luglio Il 5 luglio È tanto lontano Vabbè oggi Cioè non oggi Perché oggi è il 25 giugno Però va bene Quando uscirà questo video Dato che fa parte Della serie pre-registrata Ovvero il 2 luglio Mancheranno solo tre giorni No la guerra Esatto Sì ce la farà Quindi Quindi Prendetela bene Dai Va bene Detto questo vi salutiamo Ciao a tutti E un nuovo Entusiasmante video